Scuola e lavoro, due mondi che parlano lingue diverse. I numeri non lasciano scampo. Quasi la metà degli studenti lecchesi fra i 14 e i 18 anni frequentano un percorso di studi liceale, ma le aziende cercano e non trovano migliaia di lavoratori da inserire. Questo in sintesi è quello che dice il secondo rapporto sul mondo della scuola e del lavoro, promosso dalla provincia di Lecco. Un problema destinato a esplodere nei prossimi anni, considerato pure il calo demografico. I dati dicono che soltanto meno della metà della domanda espressa dalle imprese può essere soddisfatta da quella che è l'offerta in uscita dal sistema formativo. E questo dato non ha, diciamo, una ricaduta particolare. Ovviamente ci sono settori in cui questo è più evidente, settori come la meccanica, ad esempio, che sappiamo essere il settore tradizionale dell'economia. Però riguarda in generale tutti i settori e anche tutti i livelli di istruzione. Quello su cui si può sicuramente investire ancora di più è quello di puntare sempre di più su iniziative di orientamento che portino le famiglie a ragionare non solo in termini di velleità e di ambizioni dei propri figli, che restano comunque la cosa più importante di cui tener conto nelle scelte, ma che facciano i conti anche con quelle che sono le opportunità e gli sbocchi professionali del territorio. Così come un'altra chiave è quella di riprogrammare o comunque di arricchire ulteriormente l'offerta formativa in funzione dei nuovi bisogni e da questo punto di vista Lecco, ad esempio, proprio da novembre, vedrà la partenza di tre nuovi corsi di ITS. Come provincia di Lecco sosteniamo molto quello che è la costruzione di strumenti che possano portare il territorio, tutti gli stecordi del territorio, quindi partiamo dalle istituzioni scolastiche, gli enti, le associazioni imprenditoriali, il terzo settore, i sindacati, a lavorare su un tavolo istituzionale per far sì che l'offerta formativa già ampia alla provincia di Lecco sia rispondente alle esigenze del territorio. Sicuramente dovremo incentivare i nostri ragazzi a vedere quelle che sono le opportunità del nostro territorio e quindi a magari indirizzarsi su quegli settori dove hanno più possibilità anche di rimanere sul territorio lasciando la scelta individuale sempre aperta e senza libera per i nostri studenti.